E' d'accordo con l'obbligo vaccinale per i 9.50 o l'avrebbe esteso a tutta la popolazione? Guardi, io riguardo a questo tema mi rimetto alla scienza. La cosa che vorrei dirle è che nessuno parla di questioni molto importanti che sono l'economia, che sono il lavoro che non c'è più, che sono l'aumento delle bollette, il mancato rinvio delle rottamazioni, che sono altre problematiche che causeranno tanti tanti morti per fame. Quindi io credo che sia importante che voi vi concentriate anche sul lavoro, perché manca il lavoro. Lei ha toccato un altro tema, infatti il Covid sta nuovamente oscurando tutto il resto, perché ci sono grandi problemi ancora in interi settori, penso a quello del turismo in sofferenza enorme con le città che sono tornate a svuotarsi dopo alcune settimane in cui si cominciavano a intravedere invece i turisti. Questa variante Omicron sta... Grazie.